salve ragazzi qui è stefan kaos e oggi siamo qui in una partita co-op in zombie con wolf ok naturalmente potessi chiararlo di anche se siamo un pochettino in ritardo ma di poco infatti un pochino in ritardo direi voi sapete stefan kaos non poteva perché era già salutava stadi non ti prego non nominarlo un'altra volta perché potrei aliceo tu non sfondi la mia parete ma non sarebbe meglio dare ma non me ne frega faccio la pratica preferita comunque dovrebbe esserci la cassa fu a chi come legato da te panca sta impassando se io me ne vado tutto a pure di m di m14 e di pistolina come cacchio si chiama come cavolo si chiamano pistoli nei cavoli sua e basta opla 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 ma non mi fa che la guada era no ok ok io direi che è un momento di applaudire sulle mani sulle mani sulle mani sulle mani sulle mani sulle mani ci sembra sta fatigliata verso verso l'arco non faccio una donna come dovrebbe essere morto così ma una stupidata a morire così dai per due ma lei è capito stefan caos non sono uno dei più grandi ragazzi forse dico forse o per xbox 360 o per la che forse prenderò mi prendo codi costo ma non aveva tutti il quattro cambiate idea perché visto che anche su un costano aggiunto anche una modalità per copa 4 in no come rinfection o in basso che poco poco ci sono i mostri giacoli che mi hanno abbastanza gli stavoli borderlands infatti ti li ricordano molto devo dire allora io non ho mai capito che che minchietta è questa stunning up l'energia più quella è quella che ti fa colore più forte è quella che assume alle scarse il campione olimpico dei doppi stessi e roma ea ea ok va bene ok allora vediamo oh non mi fa un po' di panni perchè questo non si può entrare ti vedi che c'è un bel panni un bel panni un bel panni oddio cos'è cos'è è merda che sale dal terreno ah no sei tu no oddio guardate oddio oddio si è salito dalla terra non lo sta via si è staccato la tesi abbiamo qualche piccolissimo problema di di cesso ma fa niente wow è morto si è passato una domanda si è ricordato di tirare l'acqua ok allora si è passato vedete i nostri sistemi o sentici ci aspetta ma apri la porta lì del bar e la bar mitzbali come quello ebraico comunque apri o dai apri apri oddio stupratore ok adesso ci mettiamo a parlare gli stupratori volanti cazzi e mazzi no no quella ah no o no e questa qua no hai sbagliato ma vabbè poi c'è il 25 giugno ma uffa o accontentati ok va bene mi accontenta sempre io pow pow mi sento figo con l'M14 e poi praticamente l'M14 ci dovrà aver caricato da 20 colpi vabbè lasciamo stare gli errori di cardico e lasciamo gli stare io adoro questa macchina proprio perché ci passano in mezzo notare la texture predefinita perfetta di queste fiamme che si vedono le fiamme oh oh ancora l'accesso del ah beh fuori guardate che i livelli più alti non si mette a largare il principello e beh allora cerchiamo di salire po 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 io dico io dico che questo è il miglior modo di fare un Halloween su cold perché che parla tanto è forte in ottobre i giorni tutti santi vabbè in teoria quindi allora mettiamola così questi sono i santi che uuuu ma all'istante si cazzo vieni qua vieni in gioco 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 naturalmente nessuno di noi è d'accordo con lo stupro dalle cose sti fanno tanto no no io no naturalmente ma no c'è lo senti gridare tutto il tempo di stupro eh ma perché è in ogni senso accattivati nel senso che gli faccio tanto male non in quel senso gli faccio tanto male già eh vuole vuole hanno tutti i nostri idea gli chiedi giorni tale colori che nello stipendio vabbè quello si può oh ragazzi stavo pensando a cosa oh no vedi questi qua sono quelli che chiamo stupratori volanti perché corrono e sembra che volano ma come te ecco vedi volano come il vento mi stanno sul fundo perché sono stupratori volanti si stia facendo abbastanza schifo mo finia mai perché io quando parlo quando faccio un video mi distrago troppo facilmente e non è una bella cosa allora senti quindi tu quanti cosa oh apro apro perché almeno se c'è una ma no ma quella se c'è l'altra parte oh uffa sono sfigato ah io ho finto i pochi della quattro anni eh io devo scambiare la pistolina con qualcosa di più figo e lo dico a mv5 mv5 con questo battito che non è anche se potenziata mi sei se non sbaglio non faceva troppo e 5 per lì si perfetta un almeno adattino a volte la partita di valutare il pancao io andavo via da un gioco un'idea di essere e non ho dovuto potenziare che amassavo tutti e io continuavo a morire ecco la rega capito verbo morito post nonno morti posti di domanda un campione Ti immagini viene fuori la cosa della del self fuori la scritta del self Carpettiere Quell'immagino io tipo Oh Dio spavente va fa un po' non mi deve morire forse non ho capito E' morto Allora qua c'è qualcuno No Io direi fai è una cosa troppo figa aspetta guarda guarda guardami E poi comunque tu non dovresti insultare la vicina dei combattimenti era avvicinata Era avvicinata ma non a distanza E' quasi tutte le mitragliette Me ne frega Sì 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 guarda anche se si guarda code mv3 Cioè le mitragliette ti ucciderò anche da 400 da 400 km E' ma vado a forzata da parte E' tutto po' che se guardiamo mattefil 3 Guardate 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 oh yeah I want yom Yeah Guarda applaude Applaude In un certo senso Sto disponibili Galil No 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 Galil Aspetta shh 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 Washa Wankil Ma scherzo Ha fatto tutto davvero come c'ha 2 kill Ha spunto ho paura da dietro Ci vorrebbe di essere 50 Oh io sto camperando Sto camperando su un edificio Mi ha voglia Ma mi chiedo ma se tu ammazzi qualcuno qua dietro è possibile che gli venga tipo kaboom o uccisioni istantanee o i bonus Perché altrimenti sei sfigato Perchè Ma molto poco ma tutto Monizioni per tutti Aspetta Non prenderle Ecco lei prende Ecco come pensavo In qualità Inizia già la gare No dai non la gare Ti prego Oh 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 Aspetta 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 Ok vai 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 Oh 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 però si taglia il primo novembre avete sentito un voto la mia prestigio che imploda la sua playstation implode manco esplode implode proprio senti poi dentro e e non è assolutamente noi due fanno tutti i modi sepporti o magari per l'uomo ma guarda l'occasione ma poi di più ma io ho gesto costo fatto che le pistoli ma si va resta un po la ricambo cosa fa cosa fa doppio 6 8 ma cosa fa con le mani così ma cos'è guarda mi vergogno si ma per minima voglia di margara oltre la piaccia stavetti che appunto il mio conto è il ciò a casa siete le portate amici bravo in capo minuti ed è fidati ragazza è tutto forte e bravo appunto una volta lo viste giocare modello a poter comunque il gallo è troppo bella ma cosa avevi messo una balcimberti no ma non era la cosa mi sono provato a macchimberti in giuro cacchio ragazzi poi mi prendo il gianghi gianghi gianghernau come si chiamava 3 e lm pg vai e già bello che provare il mio come cavolo si chiama sto vicino ma non è munizioni cacchio bomba bc mi fanno persino di certo oddio spavento la fomba ma non si può saltare sulla casa che cagata soprattutto quando è bello per gli immagino tipo apri la casa uno ci salta dentro va tipo fanno si carica un altro mondo e va a finire un mondo strano pieno di armi non le immagino in un mondo un quarto di rettangoli ma venti minuti in questo rpg non pensavo avessi così tanto capito rettangoli parte con la piazza usati peccato che si è capo un tirapugni ma il tirapugni era quello elettrico se non sbaglio non serva niente no fa più da senti o non smetti di apparire all'improvviso dai gli angoli a no aspetta lascia far a me lascia far a me lascia far a me no ma sta sm fa schifo non ho fatto niente no guarda quello guarda dimmi che è morto altrimenti mi incazzo ok è morto sm ha fatto niente ma perchè non gli faccio niente no non gli faccio niente cioè questi zombie sono più resistenti del sono più resistenti di un abonus certamente più resistenti dell'abonus è l'abonus ma non trono ma porca oddio zombie everywhere giucciatevi questo no si deve incaricare sono caduti in testa non zombie per la cronica aspetta vai pow mamma mia che zombie power vai vai pow pow guarda li rallento sono troppo figo ma si ragazzi è livello 8 se fa cause del riguardo pow oh mi agli sto seccando ma vai mp po avete potevo anche non vede ma se hai bisogno d'aiuto anche se hai bisogno d'aiuto comunque se hai bisogno d'aiuto che ha rpt oggi un esplosone tranquillo il signor Galileo qua questo è andato momenti di silenzio d'affetto perché ma guarda quante persone ha fatto tutti i calver eh lo so vergogna ti fa dei falsi generale senza più fare tappo per due vado a prendere vado a prendere oh 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 un supportore volante non è morto volare ma per due cosa sono i punti si cos'altro magari cosa il numero di zombie oggi immagini si è fattuto si è fattuto si è aperto il numero degli zombie io però non abbiamo fatto con le bestie a tornare questo sarà un po' orribile da fare però non mi capo la pena che si abbia messo si scuola che nel più obiettivo non succedeva nel più obiettivo si attaccavi ah ok ti attaccavi al drama naturalmente come disse una volta la nostra prof ti attacchi e noi è al drama ok l'italia la cosa di scuola che bella delle medie mò che vado a contare che ogni giorno passavano gli appaltardi una ero io mazzolodoni mafioso vabbè si diceva che noi mi diceva di essere un mafioso non si sa se lo era veramente un valore no a vera una babbo del cazzo non lo sapeva facciamo stare ma lasciamo stare questi brutti passati alla chiamano guarda un posto di nuovo o non lo stupato il volante in arrivo mamma mia un giorno fatto un tupi caro stuposto dovremmo stare vicini ma ma ci se ne prega da stare vicini no a giudere questo stare vicino al sefalcato un eredito oddio lo stupato il volante al dodo oh 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 sefalcato è convinto di essere l'erede di un estorello quindi sparo un po' con alla cazzo guarda che lagga ma lagga da far paura mamma mia un cagatovi mi potenzio il questo fucile o lo cambio io prima di tutto cambia l'rpg però non sono sicuro in senso aspetta devo potenziali ma lo potenzio questa come si chiama l'amore non ho persino forte ah beh allora aspetta ciò che faccio una bella cosa cambia l'rpg l'amore 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 ecco ma come potremmo mai scendere la gsr ma guarda che quando sono in forma faccio delle strade con gsr guarda come muore guarda come muore e fai one shot manchino quest'anno l'amore 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 e non solo altrimenti non facciamo allusioni sessuali ma no è quello che fa si giocava tutto il giorno ma va l'amore attenti che adesso scambio l'arma oh oh ma io odio questi che corrono perché sono troppo stuprato arrivò oddio 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 ancora come mi ha ah meno male allora oh la uccita no oh ragazzi veramente che con te l'amore ha fatto a caricare l'rpg oh 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 aiuto aiuto sono fottuto sono fottuto morite bastanti aspetta istante istante vai 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 istante ragazzi si vede coltello pow 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 oh munizioni munizioni ma cazzo no non sono munizioni oddio kaboom vabbè the fuck ass ciao mi sono fattuto aiuto 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 aiutami per favore per favore un po' di contegno ma ma cosa faccio ma io sto facendo break dance per terra no ma 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 non è giusto non è giusto adesso lo potenzio giuro che appena che appena mi arrivo un bel bell dai vado a cecchino da sopra come fa un vero e proprio cecchino in comune edizione dei cecchini quindi sono soltanto le copie ok adesso posso fare questo muovi che ti copro io ok ok un colpo alla testa si baby oh no morite si vabbè questo qua che mi internazza no capite dovete morire si può con le avevi dici oh no vaffan bagno come questi gli stupro proprio siccome loro sono stuprezori volanti eh ma adesso bisogna stare più attenti perché arrivano quelli che corrono sempre cioè adesso ci sono solo zombie che corrono ma infatti prenditi il gennaio di te no ah è vero mi dimentico così ma è bene che come ho fatto dei buoni ho detto hai amministrati usalo ah infatti l'ho ucciso 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 mamma mia ma ci sono stupratore io ovunque ma che cavolo mamma mia che kaiser vuol dire sta roba ma che cosa ti senti ti senti ti senti ti senti adesso li devo ammazzare tutti perché altrimenti dopo diventano troppo cattivi questi visori non va bene oh ma ce la fai tu la sopra oppure sto andando no cavolo appena finita eh sì guardando st stardino di moda uomo uomo non scomp moscop no aspetta questo che ciò cela del fio no bene bene mini 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 un giro a mila potenzia così almeno arriva e ti parlo culo aspetta Ma come fanno ad avere municione? Ma no, ma come fanno ad avere municione? E perchè io... Voi! Cos'è questo? DSR ti immagino potenziatore No, bastardzo zombie vuole impedirmi di potenziare l'arma No, ma è tale che ha potenziato Teoricamente Mi ha ottenuto potenziato abbastanza E' abbastanza figo Ma non continuiamo a fare un discorso Certo E stiamo qua stiamo qui so Stiamo qui sopra Per favore, va bene Aspetta, ma la potenziale Mi fai veloce, per favore, mi sto cargando sotto Vabbè vedi che stiamo allu Allu Che belle le facette Si stiamo in ammigliamento Guarda Guarda DSR Guarda DSR Ma si adesso 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 Stare pando Beh In fondo Pensate Tu parali all'entrata dove ci sono le scale Io parlo No, sto facendo una cosa Che moda vado a fare due In got C'è Sì Vabbè, respiro quattro e sei morto che fanno Oh no Oh no No Cade giù e fa una figura di merda Ma non senti che C'è che respiro che fanno Un morto Si fa Quattro Sai quante hanno potenziato il calcio Tu un sacco Ne avrai potenziati Dico quattrocentro Ok Per due Un ciccio Mi ammazzo tutti Ma no Che cosa ammazza tutti un bel cacchio Pau Intanto tu vorrai sempre Guarda guarda che mago Oh no mago un bel caccio Io sto avanzando Oddio questi fanno morrano più Non muoiono più con un solo colpo di Di e deser Oh dai 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 Premio Ok preso Per la Dotecorte Il mio po' Il mio po' Il mio po' Un blocco E' bella La macchina Oh cacchio Mi sa che devo saltare mezzare la lava No Sì va beh Cabo 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 Morite tutti i bastardi Ma il cabo Ci avrete muoio in tutti gli zombie presenti al momento nella mappa Eh sì è una bomba fobica Capito La moba degli zombie Beh la moba La moba degli zombie troppo figa starà Ah ma ti metto anche il caricatore del quando la posizie Eh sì Ah ma poi ti sbaglio poi depositare i soldi o caccio immagino No soltanto in tanti Ah che caso Si ma Ma E qua cosa serve a fare? Ah per la cassa Eh no perché lì Vabbè vai a prendere in più giornate Ma è vero dove Ah sì non so Dove ce ne è? Sì sì Guarda come corre quello Guarda come corre quello Guarda come corre quello Ma ti rendi conto sembra Eh non so E sembra staglio olio lì Staglio olio Si cazzo Che cosa dico? Oh Un munizioni Power figa power Inghilvizzo Ma quanti sono? Eh vabbè vabbè pazziazza se non ce la farò Vabbè Pazziazza Oh no ce la fa ce la fa stai fanca cosa ce la fa Oh attento dietro Oh no No le munizioni 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 C'è un grande C'è un grande Ah mamma mia Scusiamoci Ok va bene se fa causa una cosa contando Ok I trai ragazzi Ce la siamo giusti a muta Eh sì questa volta sì Oh oh ho preso ho fatto una stronzata Ho fatto una minchietta ho fatto una minchietta Giù ecco no state lontani giugno di merda al distante ok ho preso il gioco di questione mai parlato che quando vuoi e liberando tutti per tutti i bonus lo so però è una cavola è appunto un po la minchia parte che altrimenti c'è perché dopo magari un ciappuri soldi però non c'è sbatti di continuare ad andare a prenderla adesso dove ha detto poi tra l'ultimo i due chi sono questo qua sebbiamo da volta che mi sembra che sia quella che fa col no a quella che ti aumentano il fuoco e poi adesso no aspetta che poi sarà anche quello che fa corre di più è l'ultimo che non può dopo il del massimo 4 quello che ti permette di animare più velocemente è questo questo concorso dietro che poi mi sembra che da fuori e anima automaticamente ma se cosa così cosa faccio per il tempo penso no 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 al punto è una cagata perché poi dopo quando sei in corso da migliori di giorni non è la cosa migliore da farlo ho visto che non sei già pronto appunto è in parola che si fa per me ma c'è tutta scusa pazienza o non ci provate tutti stronzetti sapete nella vita di una robin mica everywhere qua cavolo se magari guarisce sto standicapato è troppo forte quando si fa tutti e due a l'africa perché senti che si mettono insieme a voi e adesso mi sa che devo ok perfetto mamma mia stagano un po po' e mi sa anche per me ho visto ho visto l'altro o no o no o no o no o no mi stanno spero scoprare ti avverto e arrivo io stasciallo ma vada che non c'è di nessuno ah what the fuck allora coprimi che vado a prendere un'altra arma nella cassa delle delle occasioni la cassa dell'occasione all'ikea la cassa dell'occasione all'ikea la cassa dell'occasione all'ikea c'è se tu adesso ti lascio di tutti i soldi adesso vado a prendere questa qua che quella che si chiama si e poi la pareva comunque adesso prendo la stessa cosa che prende Alex Carr il campione olympico di Doctus che la cosa mi fa poi più velocemente ecco non si sa per te oggi prima che arriva a casa tua con prima che arriva a casa tua con un contratto e con un contratto e ti dice tu mi hai detto io ti ho denunciato ti prego si fanno scommesse si fanno scommesse su quanto eros che fa un caos mi sembra oh attento da dietro eh chiaramente lui deve essere citato i coglioni eh ma vai appunto ti coca adesso oh ma sto qua e rompi troppi coglioni vai via oh no no mio 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 ok mi sono spavento ok stanno venendo tutti qua ti ho messo Ziel famite mamma mia guardate il Team Tron Master Challenge che combatte contro i zombie super många farò oh no anche da qua sto venendo scendiamo io direi di scendere no nou ok aspetta che oh 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 ho ho fatta minchiata mi c sorrow sereba avan accurate perchè arriva, arriva tutta lorda ci credo che sei tanti non me ne sto finendo le munizioni cazzo quando finiamo le munizioni mettiamole che si siamo fatti oh no capito no vabbè aspetta fammi passare ma fammi passare ma non lo so la rega perfetto ma quanta figa la rega? allora aspetta adesso vi farò vedere il ciclo ccubito pensiamo non è un'edizione anch'io quindi non so che ciclo va fuori però però? ah ma classica quasi qualche patismatico il ciclo perfetto ma non è più semplice no dai ritorno qua su che facciamo ancora un po' di resistenza ah allora resista al falofmell no qualche detto di salfalofmell forse lo so forse non si so i potenziali rega hanno visto che ce l'ho già i soldi abbastanza? eh poi nella testa dove dovremmo potersi spensarsi prima perchè eh cazzo è vero ma non l'avevo portato oh cazzo sono venendo tutti da te non mi stanno cagando oddio 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 questo non lo stuportare volante per due non muore ma chi scende attento? ok ho ciò che ti salgono sulla testa come? mi stanno segnali più a testa è perchè stavano scendendo al tetto al modo di dire ma mi stai cammino ragazzi sto per finire le posizioni del ciclo oddio oddiamo dentro qua fa il giro e se c'è devi tirarti lì dietro eh grazie tu hai tutta la tua no 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 ragazzi ho finito le posizioni del ciclo perfetto bravissimo oh cio 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 ragazzi precisi 30 minuti ragazzi da stefan caos e da jacopo mi che ci vediamo alla posta